Allora, questo video sarà un po' particolare perché devo parlarvi in una maniera un po' più pacata, un po' più consona, ecco. Quest'anno sarebbe uscito la seconda parte di Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Ora, la data era 24-29 marzo, diciamo, la data era giù di lì, ma purtroppo lo hanno annunciato che non sarà rilasciato prima del 2025. Ora, l'ultima esperienza che sono andato al cinema a vedere, Across the Spider-Verse, che è stata un'esperienza terribile perché mi hanno versato la Coca-Cola addosso, ci sono stati dei bambini, baby maranza di merda, che non voglio ripetere il discorso per carità, basta. Allora, purtroppo non me lo sono goduto la pellicola, quindi va bene, ma la sono rivista poi a casa con calma, eccetera. A quanto pare, purtroppo, come ho detto prima, non uscirà prima del 2025, quindi potrebbe calarmi l'hype per questa seconda parte. Però, da questi ideatori che hanno fatto questo film, non posso essere deluso perché hanno fatto veramente un cazzo di capolavoro. Quindi aspetterò con ansia e spero che cambiano idea, che almeno lo facciano uscire a fine 2024 al cinema. Anche se ho paura di andarci. Grazie. Grazie.